A Sulmona saranno attivi tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, da Scienze dell'Amministrazione, Scienze dell'Attività Motore e Sportive, Triennale e Magistrale, Scienze Motorie, Indirizzo Calcio, Moda Design, Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia e i corsi di laurea magistrale Scienze della Nutrizione, Umana e Nutraceutica. Cresce l'attesa in città per l'inaugurazione dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, che, come annunciato in anteprima da un datigia, avrà una sede a Sulmona nel liceo Mazzara. Domani sarà il giorno della presentazione al Cinema Pacifico di Sulmona, dove ci sarà l'anteprima del film Caravaggio e l'Anima e il Sangue, su iniziativa del Comune dell'Università Telematica San Raffaele di Roma e di Sky, nell'ambito dell'apertura della serie sulmonese dell'Ateneo. Partendo dai contenuti narrativi, documentaristici e artistici del lungometraggio, approda con perfetta armonia la riflessione su un'opera chiave del maestro, il Narciso, conservato al Museo Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma. Un'opera chiave che verrà illustrata dal professor Claudio Strenati dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, prima della proiezione del film e per il suo significato imponente nella storia dell'arte. Il Narciso, che osserva se stesso, conduce infatti al mito ovidiano delle metamorfosi, uno dei grandi emblemi della storia dell'umanità, legato a doppio filo a Sulmona. L'evento vedrà la partecipazione degli studenti, il polo video e il polo fermi di Sulmona. L'apertura a Sulmona della sede dell'Università Telematica San Raffaele di Roma è un evento molto importante per la nostra città, per il territorio, afferma il sindaco Namaria Casini. Ritengo che la partecipazione degli studenti al seminario rappresenterà un importante e significativo momento di valorizzazione e capitalizzazione del binomio Caravaggio-Video, in una sintesi felice di arte, storia, cultura, accademia. Sarà una giornata in cui Sulmona inaugura la presenza dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, che sono sicura diventerà scenario di nuove opportunità per i nostri giovani.